La crisi della Blutec, multinazionale dell'automotive con sede a Rivoli, culminata con l'arresto del presidente del CDA e dell'amministratore delegato, approda in consiglio regionale. Marco Grimaldi, consigliere di Liberi Uguali, ha presentato un question time sulla vicenda all'assessore al lavoro Gianna Pentenero. Trovare anche una modalità di lavoro con l'amministratore giudiziario, immagino sia la vicenda più complicata, però insomma quello che gli chiediamo è per sapere quali sono le azioni messe in campo al fine di garantire non solo la continuità produttiva, soprattutto per gli stabilimenti coinvolti e ovviamente per salvaguardare i livelli occupazionali, assicurare a tutti i lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti piemontesi continuità sia dal punto di vista occupazionale sia dal punto di vista economico. E' urgente la convocazione di un tavolo di crisi al Ministero sulla situazione della Blutec, ha risposto l'assessore Pentenero. La scorsa settimana abbiamo inviato una lettera al Ministero, al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, chiedendogli intanto di partecipare al tavolo, perché il tavolo era già stato insediato presso il Ministero ma la Regione Piemonte non era stata coinvolta. Stiamo attendendo anche un incontro con il commissario giudiziario e quindi attendiamo nuove evoluzioni, attendiamo sviluppi. Ovviamente nell'attesa che si fissi il tavolo al Ministero continueremo a monitorare la situazione. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla scoperta di oltre 16 milioni di euro di fondi pubblici, su un totale di 21 milioni, malversati, ossia non impiegati secondo gli accordi previsti dal programma del Ministero del Lavoro per la reindustrializzazione del sito di termini imerese. I lavoratori fortemente a rischio nella sede piemontese di Rivoli e in quelle distaccate di Asti e Beinasco sono circa 300. Le indagini hanno portato all'arresto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione Roberto Ginatta e dell'amministratore delegato Cosimo Di Cursi.